E ragazza, come si dice? Gear? Giusto! E' un nuovo gioco! E' English Junior per imparare l'inglese giocando! Ascolti la cassetta e segui sul fascicolo le filastroche e i giochi. E con la magica B-Pen trovi la risposta giusta! L'inglese è importante per il loro futuro e English Junior li aiuta anche a scuola. In edicola il primo fascicolo, la prima cassetta e la magica B-Pen ha solo il 3.900 lire. E' una proposta di Agostini Junior.